Laurea Magistrale, accende il tuo talento! Sono Federica e sono iscritta al primo anno di Scienza Ambientale. È importante partecipare all'Open Day per reperire tutte le informazioni necessarie per il percorso di studi che volete intraprendere. È inoltre importante ascoltare le esperienze degli studenti che vi hanno preceduto per capire se questo è veramente la vostra strada. Inoltre, all'interno di ogni percorso di studi, nei fillabus, troverete la descrizione di ogni insegnamento. Questo è un aiuto in più per capire se questo è veramente il vostro percorso, se gli insegnamenti vi piacciono e se potrà essere la vostra strada.